cari amiche ed amici avendo dei cani come avrete potuto vedere nei miei video bisogna pulire il giardino perché cagano e se no diventa un cagatoio bestiale quindi questo è un video tutorial di come pulire il proprio giardino dalle cacchie dei propri cani con una sacchetto con un sacchetto di plastico procediamo a levantare alzare a levantare allevante ciò sono un po di slessico ultimamente le cacchie dei cani si consiglia di non farlo a mani nude e bisogna avere un po di perizia per farlo col cellulare così ripuliamo il giardino vabbè continuo io ce ne sono tante spero che questo video tutorial su come pulire il giardino dalle cacchie del cane con una sacchetto di plastico vi sia piaciuto al prossimo tutorial arrivederci e grazie ciao posto video lo potrete anche fare con due sacchetti per agevolare il processo nel caso si riempisse il primo come adesso passerò a farvi vedere spero che anche questo video vi sia piaciuto commentate date like e condividete come pulire il vostro giardino dalle cacchie dei vostri cani ciao lo so molti potranno dire che questo è stato un video di mezzo di mezza e ci avranno ragione